Poiché dopo le memorie tutta una serie di evidenziazioni non sono state prese in considerazione, sono state ritualmente omesse, noi abbiamo deciso di presentare per i primi due lavoratori delle denunce querele rappresentando all'interno delle stesse denunce tutte le falsità che sono contenute nelle dichiarazioni ovviamente dei querelanti, quindi dei risparmiatori. Questi due impiegati operavano qui in provincia di Arezzo? Sì, all'interno della provincia di Arezzo. Passano al contrattacco i dipendenti dell'ex banca Etruria, oggi praticamente sono loro a querelare i risparmiatori azzerati che a loro volta li avevano accusati di truffa. Per il momento sono due i lavoratori che hanno presentato querela per calugna e simulazione di reato, ma annuncia la CISL non ci fermeremo qui. Dunque le accuse che vengono mosse ai dipendenti riguardano essenzialmente la profilatura MIFID che molto spesso non è neanche stata raccolta dagli stessi, mentre all'interno delle sommarie informazioni testimoniali piuttosto che della denuncia viene indicato il dipendente come colui il quale ha raccolto la MIFID. E poi anche una serie di posizioni interne al risparmiatore che dichiara di non avere mai avuto rapporti con il sistema finanziario e caso strano sono scoperte tramite una verifica dei documenti che invece gli investimenti erano stati fatti nel passato, anche presso altri istituti di credito e le giacenze degli estratti conto sono assai rilevanti. Abbiamo l'impressione che il consiglio dato da molti avvocati è quello di intervenire con querele nei confronti dei colleghi al fine di poter costituirsi parte civile nell'abito di procedimenti penali nella speranza di poter ricavare quello che è stato originariamente investito.